Musica Ultima edizione del nostro telegiornale, buonasera e ben ritrovati con la nostra informazione. Hanno preso servizio i cardiologi dell'ex gemelli giunti al Santimotio dopo la convenzione con l'ASREM, l'unica soluzione temporanea per garantire il servizio H24. Resta però la generale carenza di personale soprattutto in urologia. Andrea Nasillo Hanno preso servizio dopo la convenzione firmata dall'ASREM con l'ex gemelli, i cardiologi messi a disposizione per tamponare una carenza di personale acclarata da tempo al Santimotio di Termoli. Una soluzione temporanea ma necessaria, anche se numero alla mano c'è carenza anche su altre figure come infermieri e tecnici. Viene comunque mantenuta così la continuità nell'assistenza, 36 ore settimanali, questo l'impegno individuale che sarà garantito dagli specialisti per assicurare il servizio H24. Questa soluzione momentanea non placa però lo stato d'animo nel reparto. Due medici portano l'ASREM in tribunale, due nuovi ricorsi per ore eccessive di lavoro. Gli stessi medici già avevano inviato un esposto alle autorità competenti per una verifica sugli orari di impiego del personale medico, che non riesce a godere di ferie e riposi soprattutto nel periodo estivo. Il 10 luglio scorso la Corte d'Appello di Campobasso ha confermato la sentenza di primo grado. L'ASREM era stata condannata al pagamento di un congro risarcimento riscontrando violazioni. Restano al momento le criticità per il reparto di urologia dell'ospedale di Termoli. Con le inaspettate dimissioni, a meno di un mese dalla nomina della dottoressa Alessandra Di Lallo, a responsabile dell'unità operativa dipartimentale, ora ci si attende la nomina e la contrattualizzazione, scrive il presidente del Comitato Santimotio Nicola Felice, del secondo della graduatoria, il dottor Giuseppe Zappia, già ultimo responsabile facente funzioni della stessa unità operativa. In tal modo e con una auspicata adesione dell'ultimo bando pubblicato per sei posti, il servizio di urologia del Santimotio potrà avere ancora un futuro. Diversamente inutile illudersi. Questo territorio, conclude Nicola Felice, si ritroverà ancora più povero di assistenza sanitaria. Proprio lo stesso comitato, già qualche mese fa, aveva proposto l'utilizzo in convenzione di medici delle strutture private per fronteggiare una carenza cronica di organico che coinvolge più o meno tutti i reparti. E intanto arrivano notizie confortanti perché sono 49 le domande pervenute all'ASREM per il concorso pubblico bandito dall'azienda sanitaria per la selezione di 8 cardiologi a tempo indeterminato. A rispondere alla procedura selettiva sono stati 8 specialisti in cardiologia o branchi affini e 41 specializzanti complessivamente 49 domande. Per tutti si è profilata l'ammissione al concorso che sarà espletato in tempi brevi vista la grande carenza di personale nei reparti degli ospedali del Molise a partire dal Santimotio di Termoli. Necessari rinforzi di medici e personale di varia tipologia anche nel pronto soccorso. Nel nostro comio adriatico gli operatori sono fortemente sotto pressione per il netto aumento di accessi giornalieri che stanno impegnando giorno e notte i sanitari in servizio. Cambiamo argomento. Non si è tenuta questa mattina la seduta del Consiglio Comunale di Campobasso che doveva ufficializzare la decadenza del sindaco Roberto Gravina eletto da qualche settimana consigliere regionale. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. E' stato convocato il 25 agosto alle 8.30 seduta straordinaria il Consiglio Comunale di Campobasso visto che alla prima convocazione di questa mattina si erano presentati in aula solo in sei. In aula infatti c'erano il vice sindaco Paola Felice, l'assessore all'ambiente Simone Cretella e i consiglieri Simonetti, esposito, annuario e battista. Al presidente Antonio Guglielmi, constatata la mancanza nel numero legale, non è rimasto che aggiornare i lavori a dopoferragosto. In agenda la decadenza di Roberto Gravina dalla carica di sindaco dopo la sua elezione in Consiglio regionale su cui c'è stata la presa d'atto dell'aula di Palazzo Daimo lo scorso 27 luglio. L'ultimo atto dunque il 25 agosto quando ufficialmente Gravina sarà dichiarato decaduto. A prendere le redini l'attuale vice sindaco Paola Felice che dunque guiderà il Comune fino alle prossime elezioni in programma per la primavera del 2024. Per Campobasso si tratta del primo sindaco donna della sua storia. In questo modo è stato scongiurato il rischio del commissariamento che avrebbe avuto pesantissime ripercussioni sull'attività dell'amministrazione e quindi sulla vita della città. Con Paola Felice sindaco in teoria si libererebbe il posto in giunta ma al momento ha fatto sapere Roberto Gravina non è previsto nessun nuovo ingresso nell'esecutivo di Palazzo San Giorgio. Ogni eventuale decisione sarà assunta in pieno accordo e in sintonia ha annunciato lo stesso Gravina. La prognosi resta riservata ma non sarebbe in pericolo di vita il giovane di 25 anni coinvolto nell'incidente stradale all'incrocio tra via Maratone e via Masci Longo a Termoli. Nella serata di ieri il 25enne di Palata stava risalendo dal lungomare quando con la sua moto è finito contro le transenne è stato trasportato d'urgenza al Santimotio dove è ricoverato. Non sono mancate le polemiche soprattutto sui social legate al buio che persiste su un buon tratto di strada. Una nefrologa dell'ospedale veneziale si è tolta la vita questa mattina nella sua casa di Iserni. Ancora da chiarire le motivazioni del gesto estremo e sull'accaduto indagano i carabinieri. Intanto è stata disposta l'autopsia. Enrico De Simone. Basta, basta, basta. Queste le parole che una nefrologa di 34 anni dell'ospedale veneziale di Iserni avrebbe urlato poco prima di togliersi la vita da sola nella sua casa non molto distante dalla cattedrale di San Pietro Apostolo il gesto estremo questa mattina inutile l'intervento dei sanitari del 118 i vicini di casa scossi il dispiacere per la giovane in strada anche alcuni suoi amici in lacrime increduli il magistrato ha disposto l'autopsia sul corpo nell'abitazione della donna i carabinieri che indagano per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto la nefrologa originaria di Sant'Elia Pianisi aveva studiato a Bologna in servizio al veneziale da circa due anni da chiarire le motivazioni che l'hanno spinta a togliersi la vita Controlli rafforzati per Ferragosto sia sulle strade che in città il Comitato Provinciale per l'Ordine della Sicurezza Pubblica si è riunito in Prefettura a Campobasso per esaminare le misure da mettere in campo per garantire la sicurezza anche contro i furti in appartamento Sentiamo Servizi di controllo del territorio mirati per intensificare le misure di prevenzione e contrasto già in atto e prevenire potenziali fenomeni di microcriminalità in particolare furti in abitazione durante le festività di Ferragosto si è riunito in Prefettura a Campobasso il Comitato Provinciale per l'Ordine della Sicurezza Pubblica cui hanno partecipato i rappresentanti delle forze di polizia alcuni sindaci della provincia e vigili del fuoco per decidere le misure da mettere in campo per garantire la sicurezza nella giornata di Ferragosto questo in previsione del traffico aumentato sulle strade per lo spostamento di persone verso i luoghi delle tradizionali scampagnate o verso il mare e la montagna tenendo anche in conto le tante sagre concerti e spettacoli in giro per la regione che muovono sempre grossi flussi di persone il Comitato ha ovviamente esaminato anche il punto della sicurezza di chi invece resta in città e anche dei possibili furti negli appartamenti che durante le festività aumentano proprio in relazione ai recenti episodi registrati in alcuni comuni della provincia si è tenuta un'apposita riunione tecnica di coordinamento per fare con le forze dell'Ordine il punto della situazione sui reati predatori già costantemente monitorati a tal proposito è stata definita una strategia condivisa di interventi con un ulteriore potenziamento della vigilanza da parte delle forze dell'Ordine in particolare nelle ore serali la riunione ha evidenziato anche l'importanza del protocollo d'intesa a mille occhi sulla città che si serve anche dei dati della vigilanza privata per avere una visione ancora più globale su ciò che accade inoltre si è ribadito ancora una volta quanto sia fondamentale la collaborazione dei cittadini nel segnalare immediatamente alle forze di polizia tutto quello che pare anomalo o sospetto I carabinieri forestali di Petrella Tifernina hanno denunciato un uomo per incendio boschivo colposo dopo i sopralluoghi effettuati in località Colle Palombo a Lucito interessata da un rogo lo scorso 4 agosto hanno trovato elementi che li hanno portati a risalire al punto dove sono partite le fiamme un'abitazione rurale che da informazioni assunte nella zona apparteneva alla persona in seguito denunciata identificato e ascoltato l'uomo ha infatti raccontato di essersi recato il 4 in campagna per dar fuoco a dei residui di erba ma a causa del vento non ha più controllato le fiamme che si sono propagate insieme ad altri cittadini di Lucito a Corsi dopo aver visto il fumo è riuscito a scongiurare danni maggiori l'incendio ha interessato un'area di 3.000 metri quadrati prima riunione a Larino della consulta comunale permanente per le disabilità e le neurodiversità Piacentino Salati L'organismo è stato costituito con deliberazione del Consiglio Comunale nella scorsa consigliatura ora si è insediata a Larino convocata dal sindaco Giuseppe Puchetti la consulta comunale permanente per le disabilità e neurodiversità L'obiettivo dell'organismo che si annovera fra le forme di partecipazione popolare alla vita amministrativa pubblica previste dal testo unico Enti Locali è quello di dare risposte alle esigenze del territorio promuovendo le pari opportunità L'Assemblea l'eletto all'unanimità Rian Naltieri come presidente della consulta comunale e Angelina Silvano come vice Gli altri componenti sono Adele Stelluti Graziella Bizzarri Iolanda Giusti che è anche assessore alle pari opportunità del comune di Larino Eloisa Arcano Enrica Di Spirito delegata ASREM e Raffaella Petti delegata dell'ufficio scolastico regionale Nella prima seduta sono stati ribaditi gli obiettivi della consulta affrontare le problematiche inerenti alle persone con disabilità promuovere le iniziative volte al conseguimento di diritti e delle pari opportunità compreso l'inserimento lavorativo mirato la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale ciò per contribuire alla realizzazione di un ambiente che garantisca ad ognuno l'esercizio autonomo di ogni attività indipendentemente dall'età dalle caratteristiche psicofisiche e sensoriali è stato approvato dalla giunta regionale il calendario venatorio a proporlo il presidente Roberti con apposita deliberazione l'annata venatoria inizio il 17 settembre e termina il 10 febbraio 2024 i cacciatori non residenti in Molise possono esercitare la caccia dal 1 ottobre al 31 dicembre 2023 nelle giornate coincidenti con quelle stabilite dalla regione di residenza all'interno del calendario vengono specificati nel dettaglio i periodi per ogni specie la possibilità dell'utilizzo o meno del cane oltre che le aree questo calendario è frutto del confronto avuto con le associazioni dei cacciatori ed è la sintesi di tutte le loro istanze ha commentato il presidente Roberti ed ora andiamo a Sant'Elia a Pianisi per la notte dei briganti che si è rivelata un successo un appuntamento molto atteso che partendo dalla rievocazione dei fatti realmente accaduti che rischiavano di avere esiti drammatici poi sfocia in una festa sentiamo un estratto vediamo un estratto dalle puntate in uscita in questi giorni poi sul viaggio in Molise sentiamo Sant'Elia a Pianisi rilegge e rivive fatti della sua storia a cavallo tra l'epoca pre e post unitaria e della sua gente nella notte dei briganti un ricco cast di decine di figuranti mette in scena l'episodio in cui padre Raffaele oggi venerabile ma da tutti indicato come il monaco santo salva dal patibolo un innocente questa manifestazione che ricorda questo evento prodigioso che è legato alla figura del monaco santo del venerabile padre Raffaele che in fondo si espose per rendere giustizia ad un povero uomo che era stato ingiustamente condannato la dicitura il monaco santo era in qualche modo già in voga quando lui era vivente ecco che di fronte alla presenza del padre Raffaele che si rivolge sia all'autorità dell'epoca come al comandante siamo nel periodo dell'unità d'Italia quindi non esita a esprimere il proprio giudizio a favore di questo povero uomo affermando che era innocente uno sforzo organizzativo importante che ha coinvolto moltissimi volontari decine di figuranti santeliani ma anche il gruppo folclorico di Agnone e diversi indocciatori in rappresentanza dell'indocciata un legame che nasce dai trascorsi dello stesso padre Raffaele in Alto Molise ripartire con entusiasmo e impegno rimettere su tutta la manifestazione non è stato semplice però per fortuna gli aiuti non sono mancati e quindi anche i ragazzi siccome sono parecchi anni che ripetiamo la manifestazione si sono mostrati molto disponibili è una storia che insomma ci lega a questo venerabile padre Raffaele e quindi è un esaltare anche le nostre radici e le nostre tradizioni e per quanto riguarda insomma anche i costumi abbiamo fatto come al solito delle ricerche storiche quindi abbiamo cercato di riproporre il contesto culturale, storico, sociale quanto più possibile la rievocazione si conclude con momenti di festa la cena nei borghi è parte integrante della manifestazione con l'impegno della Proloco e di tanti volontari ricco e interessante il menù mentre l'entusiasmo scioglie la fatica cavatelli e salsiccia quindi un piatto tipico santileano pizza randini lo dico in dialetto ma in effetti è la pizza di granoni oppure di mais con friarelli verdi impegnativo non lo è perché lo facciamo con passioni lo facciamo con amore lo facciamo per il paese lo facciamo per padre Raffaele e quindi tutto questo impegno alla fine non si sente e ora andiamo a Boiano per il Ver Sacrum viene arrivato alla ventunesima edizione che si conferma un coinvolgimento sempre più ampio della cittadinanza e richiama anche un folto pubblico sentiamo il servizio di Giuseppe Carriera con le interviste di Gabriella Laurelli Ver Sacrum non è soltanto uno degli appuntamenti centrali dell'estate a Boiano e nell'intera area a Matesina è un laboratorio culturale che ogni anno cresce e si amplia con il coinvolgimento di tantissimi figuranti e tra loro molti giovani che prendono parte alla rappresentazione si immedesimano apprendono e rivivono scene risalenti alle origini della loro comunità e quindi decisero di consacrare al Deo Marte alcuni giovani e di mandarli affondare nuove colonie seguendo e interpretando i movimenti di un animale sacro io sono veramente soddisfatta non solo io ma anche tutto lo staff delle socie dei sostenitori di coloro i quali da anni ci sostengono economicamente e siamo siamo felici felici di aver raggiunto questo bellissimo risultato con una partecipazione straordinaria quest'anno siamo oltre 400 e non solo nostri cioè di Boiano ma anche dei paesi limitrofi e delle regioni limitrofe sono venuti dalle Marche dall'Abruzzo dalle Puglie e anche dalla Campania preparazione intensa per i figuranti sviluppo della sfilata cura delle scene recitate sul palco ogni dettaglio è importante l'associazione Versacrum ha fatto un bellissimo lavoro sia sul copione sull'accuratezza storica diciamo che non è poi un aspetto del quale io mi occupo alla fine il mio ruolo è quello di tradurre attraverso la bravura degli attori che ci saranno stasera a recitare e soprattutto tramite anche le nozioni che loro poi mi danno in scena quello che è poi la storia adesso daremo inizio ai rituali della fondazione affinché il nuovo popolo avrà pace e prosperità nei secoli futuri una città che vivendo questi momenti corali ritrova segni identitari e un forte motivo di attrazione che unisce cultura e turismo noi siamo veramente orgogliosi come città come amministrazione di questa manifestazione è una manifestazione della quale non possiamo assolutamente più fare a meno e il nostro impegno è quella di proiettarla anche oltre quelli che sono gli attuali confini regionali giuriamo il difetto con il sacrificio delle nostre vite la terra che il Dio ci ha consegnato e che il Bue ci ha indicato si chiamerà Bovaiani e il suo nome brillerà nei secoli futuri giuriamo giuriamo è stato presentato nella sala consigliare di Palazzo San Francesco ad Agnone il nuovo libro di Italo Marinelli dal titolo personaggi alto molisani l'opera racchiude una serie di interviste a uomini e donne che si sono distinti per le loro opere in campo sociale culturale politico sentiamo nel 78 gli articoli sul giornale locale Piazza del Tomolo a 18 anni le prime analisi politiche sul vuoto poi gli studi che l'hanno portato a diventare pediatra ma la passione per il racconto dei fatti Italo Marinelli non l'ha mai persa ora consegna al suo paese Agnone e al Molise tutto una preziosa memoria storica il libro personaggi alto molisani che contiene una serie di interviste a figure che si sono distinte in campo culturale sociale e politico un'opera con cui Marinelli sceglie di fare i conti con se stesso come molti della mia generazione ho vissuto un lungo periodo di impegno a sinistra ha spiegato l'autore eravamo militanti del bene contro il male rappresentato di volta in volta da capitalisti fascisti democristiani poi l'epifania ho sempre rispettato gli avversari ha continuato Marinelli ma mi sono reso conto che c'è qualcosa di più importante delle buone maniere il pieno riconoscimento delle vite e delle ragioni degli altri da qui lo spunto per le interviste l'idea è data quasi per caso quasi per gioco diciamo io come medico sono abituato a raccogliere la nam la storia la storia di una persona e in qualche modo ho trasferito questa capacità anche nel campo sociale nel campo culturale nel campo storico e ho realizzato queste interviste per un giornale locale che si chiama l'Eco dell'Alto Molise la stampa locale ha un ruolo molto molto importante specie in realtà come questa più marginale proprio per un senso di identità la presentazione del libro nella sala consigliare di Palazzo San Francesco ad Agnone tanti personaggi raccontati da Marinelli il ricordo di suo padre il mondo del folk con l'intervista a Giuseppe De Martino l'arte delle campane con Tonino degli quadri l'arte casearia con Antonio Di Nucci lo sguardo alla politica con le parole di Michele Iorio solo per citare alcune parti dell'opera quali elementi rendono la storia di una persona meritevole di essere raccontata appunto in un libro? Bellissima domanda io credo che molte delle persone che ho intervistato qualcuna purtroppo non c'è più come Mimu Pellegrino come la preside Barrassi rappresentano una generazione che ha segnato una svolta nella storia della nazione la generazione della ricostruzione la generazione che ha fatto i sacrifici come si diceva una volta una generazione che aveva una identità forti che purtroppo col tempo si sono perse adesso lo specchio si è rotto non c'è più questa identità e io credo che queste sono figure che proprio io credo quello che credo di aver trovato in ciascuno è in qualche modo la coerenza cioè la coerenza a un ideale la coerenza a un tipo di impegno l'opera edita da Enzo Delliquadri nella collana di libri tesori dell'Alto Sannio sono usciti 11 libri che sono un po' la nostra storia sono libri di poesia di romanzi di novelle di itinerari c'era un po' di tutto ovviamente non poteva mancare quello che è stato il lavoro di Italo Marinelli la parrocchia di San Silvestro Papa di Matrice prende le distanze da ciò che è stato comunicato dall'associazione Demetra nella giornata di ieri in merito alla festività della Beata Vergine e della tradizionale Sagra del Prosciutto che da oltre 50 anni è sempre stata gestita dalla parrocchia con tutte le autorizzazioni pubbliche e sanitarie afferma il parroco Don Mariano Gioia e con la collaborazione dell'associazione Amici di San Silvestro Papa contrariamente a quanto affermato dal presidente dell'associazione Demetra annunciamo che i festeggiamenti e la Sagra si svolgeranno regolarmente come ogni anno oggi domani e dopodomani come dal programma reso noto nei giorni scorsi ed ora andiamo a casa Calenda dove si è conclusa la ventunesima edizione di Molise Cinema sono stati premiati i lavori vincitori delle varie sezioni del festival nella serata di chiusura anche la presentazione del libro di Maria Grazia Calandrone Enzo Longo con la premiazione dei concorsi è terminata a casa Calenda la ventunesima edizione del festival Molise Cinema resi noti i vincitori delle cinque sezioni competitive sono stati 61 i film in concorso presentati al festival per la sezione frontiere premio Giuseppe Folchi il concorso riservato ai documentari ha vinto Las Leonas di Isabella Cavall e Chiara Bondi per la sezione percorsi cortometraggi italiani la giuria invece è premiato Sciaraballa di Mino Capuano per la sezione Paesi in corto il premio per il miglior cortometraggio internazionale è andato al polacco Marty Punkt il premio del pubblico per i cortometraggi votato dagli spettatori durante le proiezioni è andato invece a Stuk for Stuk di Renza Rasouli giovane regista iraniano residente in Austria ai tradizionali concorsi del festival si è giunta da quest'anno la sezione competitiva girare in Molise rete dei festival dell'Adriatico destinata a cortometraggi di autori molisani o girati in Molise il premio è stato assegnato dalla giuria al cortometraggio Beati i Puri di Cuore di Matteo Giampetruzzi nella serata conclusiva di Molise Cinema anche due appuntamenti dedicati ai libri Marco da Milano ha partecipato alla presentazione dell'Italia vuota viaggio nelle aree interne di Filippo Tantillo subito dopo prima presentazione in Molise per Dove non mi hai portata di Maria Grazia Calandrone libro finalista al premio strega che racconta in un romanzo di cronaca e poesia l'incredibile storia dell'autrice della scoperta della sua madre naturale che era molisana di Palata grande successo per la seconda edizione di Termoli Baskers Night un'intera serata dedicata agli artisti di strada che hanno illuminato a festa le principali vie della città Andrea Nassillo suoni colori e tanto entusiasmo il centro di Termoli illuminato a festa per la seconda edizione della Baskers Night un'intera serata dedicata agli artisti di strada le principali vie della città invase di gente dai più piccoli ai più grandi spettacoli itineranti musica mangia fuoco e tanto divertimento una serata caratterizzata da due momenti in particolare il primo in via Federico secondo di Svevia con l'esposizione fotografica punti di vista a cura del circolo Buonaluce il secondo a seguire con le esibizioni degli artisti lungo le strade del centro città i bambini sicuramente i più felici un'iniziativa che ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni e che ha messo in luce talenti spesso sconosciuti acrobazie trampolieri musicisti ma anche statue animate e illuminate alte libertà espressiva si sono fuse in una serata magica favorita anche da piacevoli condizioni climatiche ultima serata di Borgon Jazz a Pietracupa concludere la decima edizione della rassegna itinerante sul territorio diretta da Nicola Concettini il Riccardo Marchese Fortet che suggella il gemellaggio tra Borgon Jazz e il piemontese Monfra Jazz Fest un'ora e mezza di virtuosismi strumentali con il giovane sassofonista Lorenzo Simoni vincitore del premio Urbani il chitarrista Edoardo Liberati e il contrabassista Giulio Scianatico alla batteria Riccardo Marchese ed ora andiamo a Frusolone per il successo dell'esibizione dell'orchestra Bagutti l'evento dedicato oltre che alla musica anche ai tartufi è stato promosso dal comitato Sant'Anna e dalla proloco Antonio Di Lallo Gianmarco Bagutti allora a Frusolone quasi di casa oramai di casa dai è già la terza volta che vengo e quindi è un piacere poi Ernesto è una persona meravigliosa è lui che mi ha invitato qui detto il principe detto il principe il principe e quindi stasera siamo qua per un grande concerto sì senti chiaramente fate un genere che coinvolge popolare tantissima tantissimo un genere popolare ma a un 360 gradi quindi si va dalla nostra melodia popolare alla nostra tradizione ma anche la bella canzone italiana la canzone internazionale quindi un po' di tutto fate ballare tanto 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 ballare noi viviamo proprio con il ballo certamente senti è un discorso come dicevo anche impegnativo sotto il profilo imprenditoriale perché poi tu sei chiaramente il titolare di questa questa orchestra certo perché noi curiamo tutto da parte nostra abbiamo l'allestimento il service nostro quindi curiamo tutto quanto noi la produzione tutta nostra va curata sotto tutti gli aspetti musicale ma anche tecnica siete uno dei gruppi che insomma fa più serate all'anno beh il covid aveva un po' interrotto questa cosa ora stiamo riprendendo bene e ci vorrà secondo me ancora un annetto per entrare a pieno regime però siamo quasi a quasi a 180 200 date all'anno insomma mica male mica male direi bene sì bene bene ai vecchi tempi erano a 280 all'anno cerchiamo di arrivare a 220 230 280 vi riposavate mai mai io non sono un matematico mai però praticamente vi riposavate almeno due mesi due mesi sì un giorno un giorno barra due settimana vabbè senti Gianmarco sei pronto pronto prontissimo pronto per il concerto vuoi fare credo di sì un saluto a tutti gli amici di Tele Molise che ci seguono ma certo Abruzzo Molise poi un po' con Youtube in tutto il mondo un salutone grande 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 un buon tutto una buona musica vi attendo sempre nei miei concerti per tanta musica ma soprattutto tanta energia e positività ed è tutto per quest'ultima edizione del nostro telegiornale grazie per averci preferito a tutti voi una cordiale buonanotte grazie a tutti grazie a tutti